e ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo video io sono Senex e oggi signori siamo su Crash Team Racing Nitro Fueled 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 E allora iniziamo subito è un gioco famosissimo ragazzi un reboot del gioco che fu cardine della mia infanzia qua andiamo avanti inutile a spiegare sì 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 ne va tutto avanti sì accettiamo oh 42 porca miseria sono tantissime 42 grazie accetto sì abbiamo letto tutto eh ovviamente altre 28 porca miseria ma che stiamo firmando un muto della casa che stiamo a fare qua ora allora che è il locale online stop record avventura avventura siamo su PS4 ovviamente se va a san dir motorità in giù eh classica ma Nitro Fueled se direi meglio va bene avvia dai pronto personale e vabbè oh è come questi no dai andiamo di andiamo con Crash Bandicoot ovviamente ah la skin possiamo usare ah questa è quella c'è il Crash Retro Crash Elettronico no no andiamo di quello classico però moderno classico moderno cart ragazzi vorrei ah sono tutti bloccati vabbè niente non possiamo fare una mazza ah no questo è quello retro niente colori colori io direi un bel rosso rosso che riprenda un po' anche il colore del canale tutti gli adesivi ragazzi adesivo io direi 8 perché è il mio numero preferito allora cartelettone nuova selezione usuale ok pronti sarà un video molto breve ragazzi dove andremo a vedere le prime i primi minuti di questo gioco fantastico che aspettavamo da millenni finalmente lo hanno ributtato se così si può dire potenzia col turbo per attivare il turbo inizio super internavata probabilmente senza rilasciare L1 o R1 poi prima il tasto opposto per accelerare vabbè poi vedremo con i tasti ovviamente sappiamo che non sono proprio il mio forte race today trophy prize each track oggi si greggia trofei per ogni corsa bellissimo salve creature di questo pianeta vengo per greggiare così vi piacciono le gare fastidiose lumache terrestri sono Nightruse Oxide il più veloce pilota della galassia viaggia nello spazio alla ricerca di creature con cui gareggiare un piccolo gioco che chiamo sopravvivenza cresce si è addormentato direttamente funziona in questo modo il pilota più abile del vostro pianeta gareggia contro di me se vince lui lascerò il vostro misero pianeta in pace ma se vengo io trasformerò l'intero globo in un parcheggio di cemento e voi nei miei scagnozzi perciò ci giochiamo tanto ci giochiamo la terra qua signori per il futuro del vostro pianeta andiamo bellissimo ragazzi come guidare come guidare Oh! No! Ha, 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 ha! Eccoci! Dobbiamo fare un po' una prova, penso. Ok. Ok. Perfetto, chiarissimo. Grazie altrettanto. Grazie amico mio, andiamo. Eh, come si accederà? Oh, così, ok. Ma aspetti, aspetti un attimo. Dobbiamo fare ovviamente un attimo un po' di pratica, no? Ah, ecco il turbo, e poi... Ah, ok, così andiamo di... Che fa? Vabbè, dobbiamo andare a... Ho capito, va, dobbiamo andare alla pista, va. Ma questa però non lampeggia, d'accordo. Dobbiamo andare in quelle che lampeggiano. Non ce la faremo mai, non ce la faremo. Dai, dai! L'ho capito! Puoi andare ormai, voglio fare il giro, porca miseria! Oh! Sto tornando, non voglio... Andare in queste gare. Lo so, non spuntare per favore. Mamma mia che derrapato! Oh, qua! Ok, dobbiamo andare qua. Non è che sono un cretino, voglio dire. Non c'è destra. Prenda! Come si prenda? Così, ok. Andiamo a fare sta gara, va. La terza c'è, vuoi che... No! Mi va benissimo così. No! No, mi va benissimo. Premi triangolo e scegli tra tre diverse opzioni. Opzioni. Eccoci! Vai a crash! Pronti! No! 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 Dove sta la mappa? Non la vedo la mappa! Aspetta! Salto! Bastardo! Me l'ha rubata! Aspetta! Aspetta! Questa la prendo stavolta! Aspetta! Andiamo su scia! Prendiamo la scia! Prendiamo la scia! Eccoci! Ci stiamo avvicinando! Siamo secondi! No! Porca miseria! Questo! Mamma mia! Il turbo! Moronna! No! Porca! L'ha mancato quello! Aspetta! Evitiamo l'acqua! Dai che ci siamo! Porca puttana! Vai! Oh! Questo è veloce però eh! Gli altri ci stanno un bel po' dietro però... Oh! Questa qua! Cazzarola! È proprio tosta eh! Però ci siamo! Attenzione! Siamo alle calcagne proprio! Non il tiro di no! Non il tiro di no! Uh! L'ho preso! Cazzarola! E calda! Lo sapevo io! Stava andando tutto troppo bene per essere vero! E mo... Mo siamo ultimi ovviamente! No? Si! E beh! Neanche a dirlo! Porca miseria! No! Via! Levati! No! 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 Non ce la faremo mai! Impossibile! L'associo! È impossibile! Ma io vorrei sapere come si sparano i missili! Come si raccolgono le mele! Non lo so! Non lo so! Probabilmente non lo sapevo mai! Abbiamo perso! Ma la possiamo rifare! Sì! Dai! Riproviamo! L'ultima volta riproviamo! In caso poi la rifacciamo un'altra volta! Questo diciamo sarà un piccolo assaggio! Partenza! Partenza! Mamma mia! Partenza! Un po' di merda! Vabbè! Attenzione! Siamo secondi! Ancora! È sempre lei! Oh! Guardate come sono concentrato! Vorrei sapere come si sparano le armi! In realtà mi sarebbe molto comodo! Bastardo! Vieni! Ma chi spara? Sei su alla! Si autospara! Ma! Ma l'ho preso! Ma porca di quella porca! Da qua! Da qua! Da qua! No! Lo prendo io! Dai! Aspetta che prendo quel turbo! Vai! No! Questo è il doppio lo sto prendendo! Porca miseria! Vai di qua! No! Ah! Ma perché? Maestro! Perché sempre a me poi? Che cazzarola! Eh! Guarda qua! Quella già si è scappata! Eh! Ragazzi! Fatemi sapere come si lanciano le bombe! Ecco! Lo soffiate! Ah! Qua cambio la telecamera! Qua guarda dietro! Va bene! Però dai! Stiamo recuperando! La stiamo recuperando! Ok! 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 Prendiamo questa! Qua c'è un altro! Qua c'è un altro turbo! Era qua! Era qua! Sì! Lo prendo un doppio! Un doppio turbo! Aspettate! Ha sbandato un poco! Mamma mia! Porca! Ah! Porca! No! Sì! 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 Basta! Tremati! Basta! Porca! Ma! Scusate! Secondo me lei è più veloce! Ha la macchina truccata! Scusate! E non è possibile! Che ho fatto? Chi è che mi ha colpito? No! Ma ci sono rimasto malissimo! Non è giusto però! Doppio! Solo questo mi può salvare una! No! Niente! Ha vinto lei! Di nuovo! Porca! Maledizione! E allora ragazzi! Questa la faremo! La prossima volta! Abbiamo visto un po' l'inizio del gioco! Lo so che è un video molto breve! Ma ne arriveranno tantissimi! In settimana! In giornata! Vedremo! Vedremo! Anche domani! Dopodomani! Insomma! Ne avranno tanti! Fatemi sapere la vostra ovviamente con un commento qua sotto! Andate nelle mie pagine Facebook e Instagram! Iscrivetevi al canale! Datemi qualche consiglio anche sui tasti da usare! Perché! Lo ricordo! Sono un po' novello su questo gioco! Non l'avevo mai... Ovviamente non avendolo mai giocato! E' uscito ieri! Del resto! Quindi ragazzi! Io vi aspetto sempre domani alle 14! E alle 17! Con un nuovo video! Ciao!